Presunto caso di morte apparente a Villa Grazia di Carini, nel Palermitano. Una donna è deceduta da sei giorni, ma i figli non ne permettono la sepoltura. A fondo cicale è come se non fosse morto nessuno. Dopo una lunga malattia, Grazia Bruno non ce l'ha fatta, ma le eccezionali condizioni del suo corpo danno speranza alla famiglia. Nessun rigor morti soppallore mortale per la signora, avvolta nelle coperte dentro una barra che i figli non vogliono far chiudere. I familiari hanno informato la procura ai carabinieri, in attesa dell'arrivo del medico legale. Grazie per la visione!